C'è molta ipocrisia nell'andare a ripescare e sottolineare presenze, continuità, da parte di persone che non mi risulta si siano mai scandalizzate dell'accoglienza a braccia aperte che in Italia e in Europa, anche in Germania, in Austria, è stata fatta dalle forze di sinistra, dai partiti che lei citava, dalla DC tedesca, dal Partito Socialdemocratico. C'è un episodio interessantissimo, un aneddoto. Il grande cacciatore di nazisti, Simu Vizetal, va a trovare il presidente austriaco e gli dice guarda sono stufo di vedere nel nostro partito tutti questi ex nazisti, bisogna che tu ti impegni come presidente della Repubblica a fare pulizia. Il presidente gli risponde ma se io faccio pulizia rimaniamo solo tu e io. E quindi? E quindi che vuol dire? E questo vuol dire... Vuol dire che c'è una certa... E lei dice il contrario di quello che hanno detto poco fa. Che c'è una quotidianità storica. Che i delettori, io non ci credo, ma non sta a dicere... Vuol dire che c'è una quotidianità storica.